Allora, c'è il professor Maurizio Ballestrino, il ruolo della creatina nella neuroprofezione, campi di applicazione clinica. Non bisogna arrivare sotto quel altro parlante là, perché sennò innesca. Ah, è interferenza. Ma allora, come viene che stia di là? No, vai, 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 vai. Allora, si chiama... Il ruolo della creatina è la loro protezione. Va bene, allora ringrazio di nuovo il dottor Terziani per avermi invitato, ringrazio tutti gli organizzatori e ora cercherò di parlare della creatina, che, come ha detto il dottor Terziani, è una molecola conosciuta da più di un secolo, che è stata molto usata, e di cui però solo oggi si cominciano a capire le indicazioni cliniche, indicazioni che sono peraltro solitamente radicate nella scienza, come cercherò di dimostrarvi. Allora, cominciamo senz'altro, e andando in ordine di scoperta, per così dire, vi farò vedere quella che è la più antica funzione conosciuta dalla creatina, cioè quella di riserva energetica. Allora, questa è la creatina, la quale è in equilibrio col suo omologo fosforilato, che è la fosfocreatina, cioè in altre parole, creatina e fosfocreatina sono in equilibrio e si trasformano l'una nell'altra, in che modo? La creatina prende dall'AVP questo gruppo fosforico, il quale va a attaccarsi a questo gruppo amidico e in questo modo crea la fosfocreatina. La fosfocreatina è una riserva energetica, questo legame contiene una carica energetica che è maggiore di quella dell'AVP. Allora, questa è una sorta di bot energetico che la cellula si accumula. Quando è sotto stress, che ha bisogno di una maggiore spesa energetica, la fosfocreatina perde il suo gruppo fosfato, lo cede a quest'altra molecola che è l'ADP, l'ADP si trasforma in ATP. Quindi in questo modo la creatina, trasformandosi in fosfocreatina, costituisce una riserva energetica che la cellula è in grado di spendere quando ne ha bisogno. L'esempio più classico di questo è, per rimanere nella metafora del calcetto che mi piaceva tanto, l'ala che corre su tutta la fascia e arriva in fondo, alla linea di fondo per fare il cross e a un certo punto si stanca, fa tutta la fascia di cross e si stanca. Si stanca perché non ha più abbastanza ATP, cioè il suo apporto di ossigeno, la sua corsa è troppo veloce, il suo apporto di sangue, diciamo così, non ce la fa sintetizzare abbastanza ATP. A quel punto lì interviene la fosfocreatina che crea nuovo ATP e permette all'ala di fare gli ultimi 10 metri in modo da raggiungere la linea di fondo. Questo, diciamo, è l'uso più conosciuto, più classico, la funzione più conosciuta, più classica della creatina che è quella di riserva energetica in caso di bisogno o di aumentata richiesta da parte dell'organismo tipo l'ala che deve arrivare sulla linea di fondo campo o perché non c'è abbastanza approvvigionamento di ossigeno, per esempio un ictus, per esempio una carenza di ossigeno dovuta a mille altre cose. Questo è l'esperimento che abbiamo fatto noi all'Università di Genova. Voi vedete nel tessuto nervoso in vitro l'ipossia, la mancanza di ossigeno questa è un'onda elettrica che esprime la trasmissione sinaptica nel tessuto nervoso vedete che dopo l'ipossia questa onda si è perduta. Ma se noi avevamo trattato il tessuto prima con creatina voi vedete che dopo la nosia la stessa onda rimane e quindi la trasmissione sinaptica è mantenuta. Quindi la creatina è in grado di proteggere il tessuto nervoso della nosia e questa è una cosa che noi abbiamo dimostrato già in qualche anno fa e questa è la stessa cosa detta in un altro modo vedete la creatina ritarda la depolarizzazione anossica e c'è tutta una lunghissima lista di dati della letteratura che lo confermano in maniera chiara. Questo è un effetto che potrebbe essere bene sfruttato in clinica per esempio nelle malattie cerebrovascolari e nella malattia ischemica cardiaca questa è una rivista che abbiamo scritto qualche anno fa con alcuni collaboratori tra cui il dottor Adriano che ipotizza alcuni usi clinici che però per ora sono rimasti ancora abbastanza teorici quindi non ne parleremo oggi parleremo di altre cose oggi. questo diciamo è il primo e più celebre ruolo della creatina però ce n'è un altro che è ancora più importante che è stato scoperto negli anni recenti che è il suo ruolo di trasportatore dell'ATP cioè come tutti sapete l'ATP viene prodotto nei mitocondri e però viene utilizzato molto distante viene utilizzato negli enzimi come la sodipotassio tipiasi che stanno sotto la membrana plasmatica oppure come nel muscolo viene utilizzato dai filamenti di actina e di miosina allora l'ATP ha il problema che deve andare dal mitocondrio a dove viene utilizzato e questo trasporto è garantito sia scoperto dalla creatina cioè la creatina prende su di sé il fosfato dell'ATP si trasforma in fosfocreatina sotto questa forma viaggia tutto il citoplasma fino a dove deve arrivare e a questo punto qui cede di nuovo come abbiamo visto prima il suo fosfato all'ATP quindi riforma ATP questo se vogliamo è un trucco biochimico con cui la cellula riesce in pratica a portare l'ATP da dove è prodotto a dove viene utilizzato e questa è probabilmente la funzione più importante della creatina perché avviene tutti i giorni in tutte le cellule soprattutto in quelle ad alto fabbisogno energetico come i neuroni le cellule muscolari e le cellule del cuore in questo momento nessuno di noi è in anossia nessuno di noi sta facendo corse nessuno di noi ha un fabbisogno energetico eccessivo però tutti noi stiamo utilizzando per la nostra funzione normale l'ATP e la creatina ci garantisce la disponibilità di ATP nelle sedi in cui diciamo si in cui deve essere utilizzato questo è tanto vero che negli ultimi vent'anni si sono scoperte delle malattie rare però ben concrete in cui non c'è creatina a livello cerebrale e questi bambini poi diventano anche adulti hanno dei gravissimi sintomi neurologici sono ritardati mentali hanno un deficit del linguaggio molto importante e hanno epilessia e quindi hanno dei gravissimi deficit neurologici legati al fatto che nel neurone la creatina non fa più questa cosa qua quindi diciamo la creatina è indispensabile per il funzionamento soprattutto delle cellule ad alta spesa energetica oltre a questo ci sono delle altre ulteriori funzioni della creatina che si sono dimostrate nel corso degli anni la prima è di facilitare la differenziazione di nuove cellule muscolari qui ci sono due tra i tanti articoli che lo dimostrano e non solo ma ha anche proprietà antiossidanti e probabilmente non ho messo la diapositiva ma c'è anche diciamo facilita anche la la differenziazione di nuovi neuroni per esempio nella differenziazione delle cellule gabaergiche l'effetto della creatina è molto importante quindi diciamo questi sono i ridotti all'osso sono le funzioni biologiche della creatina come vedete sono molto importanti e soprattutto diciamo interessano funzioni molto basali delle cellule allora sulla base di tutte queste evidenze sulla necessità utilità importanza della creatina si è sviluppata tutta una scienza una serie di ricerche che hanno diciamo studiato la possibilità di supplementare la creatina per correggere diverse funzioni patologiche questa non è una revisione un elenco di tutte le malattie le condizioni in cui la creatina è stata utilizzata è solo un elenco ridotto di quelle per i quali esiste secondo me l'evidenza più chiara cioè queste sono quelle in cui è stata più chiaramente indicata identificata l'utilità della creatina come vedete ci sono le sindome in cui si apparenza di creatina come le malattie rare editarie di cui abbiamo visto la dieta vegetariana di cui parleremo alcune malattie muscolari e cioè la miopatia da statine e la sarcopenia negli anziani non ho messo per esempio le distrofie muscolari in cui pure la creatina è utile che però hanno un'utilità più una diffusione più limitata e poi le sindome cerebrali in cui c'è discrepanza fra domanda e offerta di energia la fatica mentale e il declino cognitivo dell'età avanzata quindi sindomi da carenza di creatina malattie muscolari malattie cerebrali cominciamo con la dieta vegetariana ora nessuno ci pensa però la creatina come dice il nome creas carne esiste esiste solo nel mondo animale il mondo vegetale non ha creatina non sa cosa farsene e di conseguenza non la sintetizza ora è ben vero che l'organismo è in grado di sintetizzare la sua creatina cioè noi siamo in grado di sintetizzare la creatina e quindi possiamo anche seguire la dieta vegetariana comunque ce la facciamo la creatina però è anche vero che costa moltissimo e poi non è che ci riusciamo del tutto a farcela dobbiamo fare ecco per dare un'idea dobbiamo il turnover della creatina sono di 2 grammi al giorno quindi bisogna fare 2 grammi al giorno di creatina normalmente prendiamo circa un grammo con gli alimenti e un altro grammo ce lo facciamo da soli intanto il fatto di dover sintetizzare tutta la creatina è uno stress metabolico perché la sintesi della creatina è il principale utilizzatore della S-adenosimetionina quello che parlava anche stamattina il collega la S-adenosimetionina è quasi tutta diciamo utilizzata in questi casi qui naturalmente per fare la creatina che vuol dire che non può più fare tante altre cose che invece deve fare quindi questa condizione è uno stress metabolico e poi soprattutto l'organismo di fatto non ce la fa a fare tutta la creatina di cui ha bisogno quindi è ben noto che il contenuto di creatina nei vegetariani è diminuito sia nel sangue che nei muscoli a livello cerebrale in realtà i vegetariani hanno sembrano avere tanta creatina quanto agli onnivori peraltro si sono molti studi che dicono che nonostante questa apparente normalità i vegetariani beneficiano della creatina più degli onnivori quindi probabilmente anche a livello cerebrale c'è qualche differenza apro su una piccola parentesi per dire che la creatina è contenuta anche nei derivati animali come latte e uova però solo in minima quantità quindi i vegani proprio non ne prendono niente i latto vegetariani prendono un po' di creatina con il latte e con le uova che però sono quantità minime la creatina realmente sta nella carne pesce filetto pollo eccetera 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 chiuso parentesi riguardo le dosi che qualcuno mi chiedeva prima c'è questo articolo qua che è uscito l'anno scorso che dimostra come un grammo al giorno di creatina una supplementazione quindi minima un grammo al giorno di creatina è sufficiente a normalizzare il contenuto di creatina nell'uso dei vegetariani quindi con poca spesa poca supplementazione i vegetariani riescono a migliorare la loro quantità di creatina questo credo sia particolarmente importante in quelli che fanno attività muscolare o attività cerebrali intensa quindi persone che fanno sport o persone che fanno lavori pesanti o persone che devono studiare per gli esami molto intensamente eccetera eccetera con un grammo di creatina migliorano il loro bilancio energetico cambiando pagina e andando invece nel muscolo una delle condizioni in cui la creatina si è dimostrata efficace è la miopatia da statine ora voi sapete tutti che le statine sono dei farmaci direi estremamente utili necessari interessanti efficaci e tuttavia recenti statistiche ancora dato ieri leggevo che solo la metà dei pazienti che dovrebbero ricevere le statine o perché hanno avuto un infarto o perché hanno avuto un'angina pectoris o perché hanno una ipercolesterolemia familiare o per qualche altro motivo in effetti la ricevono questo perché esiste la paura per appunto la miopatia da statine le statine hanno un effetto dannoso in effetti sul muscolo il quale a volte si manifesta con sintomi che possono andare banalmente da un po' di dolori muscolari che sono fastidiosi ma poco più fino a avere proprio condizioni di rabdomiolisi in cui uno rischia anche la vita perché i muscoli si danneggiano e vanno in negros la rabdomiolisi naturalmente è rara però per esempio i dolori da statine sono molto frequenti e come dicevo la paura di questi effetti collaterali frena molto la prescrizione di questi fallaci allora si è visto questi due autori già nel 2010 hanno dimostrato e poi anche noi alla Università di Genova abbiamo dimostrato in un caso che la creatina è in grado di migliorare questa condizione il motivo non è ben chiaro ma probabilmente perché come dimostrato da questo articolo le statine inibiscono un enzima che determina la sintesi endogena della creatina quindi le statine inibendo questo enzima che è la GATT riducono la sintesi endogena della creatina e quindi creano in qualche modo una carenza di creatina a livello muscolare dal che i sintomi questo è un caso che abbiamo seguito all'Università di Genova voi vedete che qui questa la creatina chinasi l'enzima creatina chinasi che come sapete è un indice di danno del muscolo questo è come dovrebbe essere questa linea tratteggiata è come dovrebbe essere la creatina chinasi vedete questa signora in realtà normalmente ce l'ha normale comincia a prendere la torvastatina la creatina chinasi si alza e la signora ha dolori muscolari perché le si toglie la statina lei ritorna normale le si dà un'altra statina di nuovo la creatina chinasi si innalza e c'è dolore muscolare a questo punto gliela si toglie e tutto rientra infine le diamo la stessa statina più la creatina e come vedete la creatina chinasi rimane lì e non c'è dolore muscolare questo è un esempio direi molto convincente io credo di come la creatina prevenga la miopatia da statina quello che questi autori del 2010 hanno usato e che noi abbiamo usato è sospendere la statina fino a scomparire fino a scomparsa dei sintomi muscolari quindi bisogna che il soggetto stia bene si fa un carico di creatina 5 grammi 2 volte al giorno per 5 giorni 5 grammi 2 volte al giorno per 5 giorni esatto e subito dopo si ricomincia con la terapia da statina e si continua la creatina 5 grammi al giorno e in questo modo il soggetto è in grado di continuare la statina e diciamo senza avere sintomi muscolari o naturalmente che poi bisogna che stia sotto controllo medico ma se uno che prende le statine ovviamente ha qualche motivo per essere sotto controllo medico naturalmente non parliamo di persone che la prendono per sport non parliamo di persone che hanno avuto un infarto un ictus o che comunque hanno qualche malattia nefabolica l'altra grande indicazione della creatina e delle malattie muscolari è la sarcopenia negli anziani come voi sapete gli anziani per i motivi più vari vanno incontro a una atrofia della massa muscolare quindi riduzione della massa magra la quale è una condizione molto marcata che è fonte di 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 danni perché diminuisce la forza muscolare e soprattutto mette il soggetto a rischio di cadute quindi come sapete quanto pericolose sono le cadute negli anziani allora qui ci sono alcune diciamo lavori che dimostrano come la creatina unita a un programma di esercizio fisico migliora la sarcopenia negli anziani più che non l'esercizio fisico da solo l'esercizio fisico è la terapia diciamo di elezione della sarcopenia e fa bene migliora il trofismo muscolare in queste persone però se voi all'esercizio fisico aggiungete una terapia con una supplementazione con creatina il soggetto ne trae maggiore beneficio anche qui sono state usate le dosi variabili la dose che io consiglierei sono 5 grammi al giorno di creatina cambiamo ancora pagina andiamo nel sistema nervoso centrale e parliamo della fatica mentale la fatica mentale è un termine che è stato ovviamente mutuato dallo sport dal muscolo che però diciamo ha una sua dignità noi sappiamo che man mano che i neuroni si attivano utilizzano maggiori quantità di ossigeno tant'è che laddove i neuroni sono attivati noi possiamo vedere con la risonanza magnetica funzionale con vari test che aumenta l'apporto di sangue e si può vedere che man mano che i neuroni si attivano il loro metabolismo si modifica si abbassa per esempio il pH e quindi diciamo non è solo esperienza comune che dopo un po' che pensiamo ci stanchiamo ma è anche un dato biochimico che i neuroni vanno incontro a modificazioni metaboliche che vengono poi percepite come fatica per esempio c'è un test che è poco noto ma utilizzato in alcuni ambienti il test di uccida Kretelin che è una sorta di tortura mentale in cui si chiede al soggetto di fare dei calcoli complicatissimi per due sedute di un quarto d'ora chi sopravviva la prima seduta dopo 5 minuti di intervallo fa la seconda seduta e dopo 15 più 15 minuti di questo test un po' sadico per esempio questo signore ha dimostrato che è diminuita la fosfocreatina cerebrale quindi il cervello ha dovuto fare ricorso alla sua scorta energetica per fare questo test e che più la fosfocreatina cerebrale era diminuita più il paziente malato soggetto lamentava stanchezza fatica cerebrale quindi quella sensazione soggettiva di affaticamento cerebrale che noi conosciamo bene si associa a una diminuzione della fosfocreatina cerebrale tutti questi signori qua hanno dimostrato che la somministrazione di creatina migliora le prestazioni a questo test cioè chi prende creatina è in grado di fare questo test in maniera più efficiente con meno errori io qui non ho messo solamente la citazione essenziale naturalmente se qualcuno volesse gli articoli in estenso non ha che da chiederli beh volentieri li mando quindi se qualcuno mi vuole scrivere o telefonare poi lascerò il mio diritto di posta elettronica nell'ultima diapositiva chi li vuole beh volentieri che li mando le dosi che hanno usato questi signori vanno da 5 a 8 grammi al giorno poi la credina è stata usata anche in altre condizioni in cui c'è discrepanza fra la domanda e l'offerta di energia cerebrale per esempio è stata dimostrata l'utilità della creatina per migliorare la sintomatologia dovuta a deprivazione di sonno questi signori hanno dimostrato che la creatina migliora le prestazioni cognitive in caso di riduzione di ossigeno nell'atmosfera riduzione di ossigeno nell'atmosfera scusate l'errore questi hanno preso dei volontari sani gli hanno fatto respirare una una miscela di ossigeno ipossica gli hanno fatto respirare un'aria con poco ossigeno e gli hanno fatto dei test neuropsicologici che questi signori fallivano e però quelli che avevano preso la creatina prima facevano un po' meglio degli altri tutte le dosi usate in questo caso vanno sempre da un minimo di 5 5 grammi al giorno in questa indicazione proprio il minimo sindacale fino anche a 20 grammi al giorno poi parleremo della sicurezza di queste dosi quindi riassumendo per quanto riguarda il sistema nervoso centrale si può suggerire la creatina nei casi di affaticamento cerebrale penso agli studenti che studiano per dare gli esami in università o anche la maturità i manager in periodi di super lavoro mentale e così via in casi di deprivazione di sonno come il jet lag la carenza di sonno la carenza di ossigeno atmosferico che per fortuna è rara ma per esempio voi sapete che in alta montagna al di sopra di 2000 metri l'ossigeno comincia a diminuire quindi uno può andare incontro anche mal di montagna e a errori tecnici dovuti a carenza di ossigeno soprattutto se non è ben acclimatato le dosi vanno da 5 a 20 grammi al giorno infine l'altra condizione è il declino cognitivo nell'età avanzata qui non parliamo di malattia di alzheimer che è una vera e propria malattia non parliamo neanche della demenza frontotemporale e di altre cose parliamo di quel normale declino cognitivo che avviene nell'età avanzata questo perché nell'età avanzata c'è una fisiologica diminuzione dell'energia cerebrale l'ATP diminuisce il flusso sanguigno diminuisce tutto diminuisce allora questi questi signori nel 2007 hanno fatto uno studio controllato con placebo in cui hanno somministrato creatina a persone di 76 anni di età media e hanno visto controllandolo contro placebo che quelli trattati con la creatina avevano punteggi significativamente migliori rispetto ai controlli in numerosi test neurositologici questo perché anche l'età avanzata riduce il scarico energetico della cellula nervosa e quindi si può avere questo beneficio due parole e poi ho finito sulla dose e la sicurezza e sul cautele della creatina allora dose efficace nella maggior parte di indicazioni è sui 5 grammi al giorno diciamo da 5 grammi al giorno in suma 5 grammi al giorno cominciano già a essere una dose efficace si sono state utilizzate in letteratura dosi fino a 20 grammi di creatina al giorno ora il ministero della salute approva l'uso di creatina come supplemento per gli sportivi alla dose di 3 grammi al giorno peraltro il ministero stesso ne indica l'uso negli sportivi per 6 grammi al giorno per un mese quindi questa è la normativa di riferimento noi potremmo dire che la maggior parte di queste indicazioni ricade all'interno della possibilità di usare creatina alla dose di 6 grammi al giorno per un mese questa è la dose che negli sportivi è ammessa poi in realtà la letteratura ci dice molto di più ci dice che la letteratura è sicura fino a dosi di 20 grammi al giorno e per la realtà anche di più per esempio uno dei lavori più dimostrativi secondo me questi due autori hanno rivisto la letteratura hanno fatto una revisione della letteratura che arriva a coinvolgere 5.480 anni paziente quindi una dose multevolissima hanno visto che in questi studi creatine era stata somministrata una dose media di 9,5 grammi al giorno e in tutti questi 5.480 anni paziente non c'era stato nessun effetto collaterale importante diverso dal placebo quindi direi una dimostrazione di sicurezza della creatina notevole gli unici effetti che si possono verificare sono nausea diarrea e sintomi gastrointestinali che sono sintomi direi abbastanza banali e comunque non pericolosi l'unica cautela che dobbiamo avere utilizzando la creatina è per quanto riguarda la funzione renale nel senso che la creatina è il precursore fisiologico della creatinina che viene excreta per via renale per cui alte dosi di creatina possono far lavorare tanto il rene allora nessuno ha dimostrato che la creatina anche a queste dosi fa male il rene anzi il contrario tuttavia è prudente non somministrare a soggetti che già hanno un danno renale quindi se uno ha già un danno renale in atto è bene in effetti che la creatina non la prenda in caso di trattamenti di lunga durata quindi per mesi o anni come nella miopatia da statine è bene controllare ogni 4-6 mesi la creatinimemia vedere che non aumenti troppo di solito non aumenta e comunque è bene eseguire questi trattamenti sotto supervisione medica ripeto la miopatia da statine sono soggetti che per difotto vanno dal medico ogni tanto e quindi insomma comunque quindi questi sono diciamo è l'unico vero caveat l'unica vera precauzione che si deve avere per somministrare supplementare con la creatina l'altra cosa che dovete sapere è che le creatine non sono tutte uguali allora questo è uno studio che è stato eseguito in Italia nel 2011 questi hanno visto diversi preparati commerciali di creatina quindi quei bidoni che per esempio gli sportivi di bodybuilders prendono ne hanno analizzati diverse decine e hanno visto che 33 per esattezza in più del 50% di questi preparati commerciali il livello di contaminanti superava le raccomandazioni dell'autorità europea per la sicurezza alimentare allora di solito il contaminante che c'era in eccesso era la creatinina ora la creatinina in effetti non è dannosa di per sé però prendere da creativo un grammo di creatina e sapere che ce n'è dentro non so quanti centigrammi o decigrammi di creatinina effettivamente non è una buona notizia e almeno la metà aveva troppa creatinina ma non solo il 15% dei campioni aveva livelli rilevabili di derivati del cianuro fondamentalmente allora voglio dire che la centra è il cianuro il cianuro c'entra perché un vecchio modo di sintetizzare la creatina parte da un derivato dell'acido cianidrico tutto questo diciamo fa un po' preoccupare e allora io credo che nel prescrivere la creatina in condizioni mediche o paracliniche a persone che ne hanno bisogno o che comunque se ne possono trarre giuramento per motivi di salute bisogna fare molta attenzione a non dargli queste cose qua allora quello che io mi sento di raccomandare quello che credo ormai la letteratura raccomanda è utilizzare delle creatine diciamo pure allora diciamo ci sono pure da due punti di vista primo perché non hanno contaminanti finito primo perché non hanno contaminanti e secondo perché non sono sintetizzate a partenza dall'acido cianidrico o dai suoi derivati allora esiste in commercio questa creatina che è prodotta dalla vita alz-chem che sta in Baviera che si chiama Creapure che risponde entrambi ai requisiti questa viene fornita con un foglietto di analisi che garantisce la mancanza di contaminanti tra cui derivato dell'acido cianidrico e in effetti non è sintetizzata a partire dai derivati del cianuro per esempio noi abbiamo con il mio collega costituito questa spin-off dell'Università di Genova in cui produciamo questa nuova Crea che è creatina e miele e contiene Creapure per l'appunto che è quindi la creatina di cui ho parlato che è affidabile anche per un uso medico con questo ringrazio per l'attenzione questo è il mio indirizzo di posta elettronica se qualcuno vuole avere chiarimenti informazioni o anche articoli della letteratura scrivetemi per il caso del correntino grazie per la scuola grazie 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 a tutti grazie a tutti